Non sono dati positivi quelli che emergono da un'indagine di Open Police basata su dati Istat, fatta sul numero di posti negli asili nido della nostra regione. In Abruzzo, meno di tre bambini su dieci avranno un posto nelle strutture che riapriranno a settembre, dato che fa posizionare la regione al quattordicesimo posto a livello nazionale. Tra i comuni capoluoghi la città di Teramo si distingue con una copertura del 39%, paragonabile a quella della Toscana. Pescara mostra buoni risultati, mentre l'Aquila è ultima. Un dato che conferma la bontà del lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni, ovviamente sviluppando il patrimonio straordinario del sistema dei nidi nella nostra città. Teramo decisamente sopra alla media nazionale e anche ovviamente al dato regionale che deve crescere, che si colloca al 28%, Teramo è al 39%, prima città-capoluogo in Abruzzo e come ricordava lei competitiva anche a livello nazionale. Questo dato è il frutto di una scelta strategica, puntuale, che abbiamo portato avanti in questi anni, un sistema integrato su una gestione pubblica che ha integrato anche tutti i nidi cosiddetti esternalizzati sotto un unico governo, sotto un unico interesse pubblico che poi è l'interesse dei nostri bambini, dei più piccoli. Il sindaco di Teramo, D'Alberto, ha ribadito l'importanza degli investimenti del comune nei servizi per l'infanzia che hanno portato ad un raddoppio dei posti nei nidi comunali e all'introduzione di esenzioni tariffarie per le famiglie con redditi bassi. Abbiamo degli interventi PNRR sulle strutture significativi, interventi che ci consentiranno di potenziare con la casetta sul fiume e anche l'intervento sul polo che verrà realizzato a Villa Romano e altre realtà che coinvolgeranno anche il sistema dei nidi oltre agli altri interventi dove dobbiamo migliorare sulla manutenzione, questo senza ombra di dubbio, ma soprattutto l'investimento sul patrimonio umano che dobbiamo potenziare, migliorare sempre di più. Teramo è riferimento, è un modello regionale, lo è anche nell'interlocuzione con la regione Abruzzo con la quale stiamo lavorando, con il neoassessore Sant'Angelo fin dai primi momenti abbiamo intavolato, anche in quel caso nel mio ruolo di presidente del Lanci, ma soprattutto come sindaco di Teramo e referente regionale, un tavolo anche per modificare la legge regionale perché migliorare il dato regionale è fondamentale e dobbiamo farlo attraverso una politica che metta al centro la priorità dei nidi all'interno del sistema abruzzese.